Alta moda parigina ultima tendenza con Daniela Polucci Può una moda di luci conquistare la Ville Lumière? Sì, si chiama Shine a firmarla e Giorgio Armani Tessuti liquidi, bagliori, cristalli per abiti come sogni couture Ad applaudire il defile in prima fila anche la First Lady Laura Mattarella Figlia del Presidente della Repubblica che ha incontrato a Parigi Lo stilista e sua nipote Roberta I figli della vita di Claire Hunter ricuciono presente e futuro da Maison Dior Dove il direttore creativo Maria Grazia Chiuri fa di ricami e trame Riflessioni identitarie sul lavoro di filiera che sta dietro a una collezione È un po' Liena, un po' Matador, la donna di Daniela Rosberry per Schiapparelli Dove grandi bijoux adornano capi iconici e sofisticati Ricreando il mondo di Elsa fra modernità ed accenti rococò Edonismo e Glam anni 80 per Antonio Grimaldi E il suo Ladies Club, silhouette regali, strasci e chi piume Per abiti suare fluo o dalla palette glaciale Voglia di colore anche da Chanel Che gioca con tweed, ruote, pizzi, sottovesti, lingerie di giorno e di sera Perché il gioco della seduzione non guarda all'orologio